A fine marzo l'annuncio del nome del nuovo presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e della Riserva Marina. Ministero e Regione avevano finalmente trovato l'intesa sul nome di Donatella Bianchi, conduttrice televisiva e presidente del WWF nazionale. Un coro di consensi aveva accompagnato quella che sembrava la soluzione alla crisi di conduzione del Parco che durava da quasi due anni e mezzo. Ad accelerare la decisione aveva senz'altro contribuito il vicepresidente facente funzioni, Vincenzo Resasco. L'ex sindaco di Vernazza, lo ricorderete, aveva rassegnato le dimissioni senza peraltro volerle motivare. Crisi risolta si era subito detto e sperato. Certo, tra la nomina e l'insediamento del candidato passa sempre un po' di tempo per l'espletamento degli addempimenti burocratici ed è così iniziata l'attesa. A quasi tre mesi da quell'annuncio tutto sembra però essere ancora in alto mare. E allora viene spontaneo chiedersi cosa veramente impedisca l'arrivo del nuovo presidente del Parco? A domandarselo sono soprattutto gli amministratori dei tre comuni che fanno parte di questo importantissimo parco nazionale. Forse tra i più importanti se si pensa ai flussi turistici che muove e ai benefici che ne ricavano non solo i comuni dello Spezzino ma la stessa regione Liguria. Forse toccherebbe proprio alla regione che ha condiviso la scelta sollecitare con forza quel provvedimento che può mettere fine alla mancanza di una guida amministrativa in un ente di questa importanza. Sulle lungaggini burocratiche peserebbero dei veti dopo che il Ministero aveva bloccato la nomina del presidente del Parco del Vesuvio mesi fa. In Commissione il Partito Democratico ha presentato diverse interrogazioni per sbloccare le nomine ma per ora senza successo. I problemi intanto aumentano perché lo stesso Consiglio del Parco è bloccato per i cambiamenti che ci sono stati nei comuni dopo le amministrative di maggio. Giochi politici e lentezze burocratiche non fanno certo bene ad un ente che proprio oggi è chiamato ad un ruolo determinante per affrontare e risolvere i tanti problemi che sono sul tavolo.